Non è la prima volta, purtroppo, che si verifica un episodio così crudele. Tre cani sono stati avvelenati a Grottaglie, in Piazza Verdi. L'AMPA intende presentare denunce al commissariato di polizia, a renderlo noto con un comunicato dell'Associazione Ambientalista. Invitiamo i proprietari degli animali a fornire il referto medico di modo che si possa presentare una denuncia, seppure contro i gnoti, e non un semplice esposto. La loro privacy sarà assolutamente tutelata, non c'è nulla da temere, abbiamo solo bisogno del referto medico. A quanto pare, spiegano gli animalisti, nel quartiere sarebbero state lasciate trappole contenenti veleno. Questo vuol dire che, oltre a causare la morte degli animali, questa gente crea problemi di pubblica sicurezza. Dal momento che in Piazza Verdi giocano molti bambini, e tanto crediamo che le forze dell'ordine debbano considerarlo. Si invitano i proprietari degli animali, pertanto, a prestare molta attenzione, e si ringraziano i tanti giovani che stanno monitorando la zona. L'AMPA invita la denuncia, ricordando che avvelenare un animale è un reato ai sensi dell'articolo 544 del codice penale, cioè uccisione di animali. Inoltre, il testo unico sulle leggi sanitarie proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose, prevede la reclusione dai sei mesi a tre anni, e anche multe dai 51 euro fino ai 516 euro. Per la denuncia che deve contenere le prove dell'avvelenamento dell'animale, ci si può rivolgere a qualsiasi organo di polizia giudiziaria.